L'arte ha una primaria importanza del presente, l'arte dovrebbe essere quello che ci porta a capire quello che noi da solo non riusciamo a capire, a vedere. Io vorrei sapere chi non pensa per immagini, anche i sogni sono immagini. Vi ricordate le discussioni nei sogni? No, vi ricordate delle immagini. Abbiamo paura della guerra, del terrorismo, ma chi è mai stato in guerra, chi è mai visto il terrorismo? Nessuno. Non viviamo più la realtà, viviamo guardando le immagini. I soggetti migliori sono quelli che il fotografo sceglie, perché quei soggetti lì sono quei soggetti che gli servono a spiegare ciò che lui sente. Allora, tutti vedono ciò che sembra, pochi sentono ciò che è. Voglio fotografare l'intangibile, quindi l'impossibile, cioè l'anima, lo spirito, l'essere e non il sembrare. Però attraverso il sembrare, perché abbiamo bisogno di forme, attraverso lo sguardo soprattutto. Voglio entrare nel pozzo che ognuno di noi ha e nel quale noi siamo i primi a averne paura.